327 beni confiscati alla mafia restituiti alla collettività in sette comuni della provincia di Trapani. Il valore complessivo è di 13 milioni di euro. Vertice oggi in prefettura con il sottosegretario del Ministero dell'Interno, Vanda Ferro, l'inviato Ernesto Liva. Tre mesi dopo la cattura di Messina Denaro, sette comuni della provincia di Trapani si apprestano a ricevere 327 beni immobili, terreni, locali, commerciali confiscati in prevalenza a prestanoma dell'ex latitante. La maggior parte, 109, saranno consegnati al comune di Castelvetrano, il luogo di origine dei Messina Denaro. La procedura di affidamento è stata formalizzata questa mattina in prefettura a Trapani nel corso di un incontro con i sette sindaci dei comuni beneficiari dell'accessione cui hanno preso parte il sottosegretario all'Interno Ferro e il direttore della Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Il prefetto Corda, una riunione che ha alimentato anche le considerazioni sull'occasione costituita dalla cattura di Messina Denaro. Lo Stato ha bisogno anche di quel mancato consenso del popolo sovrano che certamente può ancora di più aiutare a sconfiggere un fenomeno che oggi vede ancora un altro importante tassello messo a segno ma che non deve essere visto come il raggiungimento di una meta perché ancora tanto c'è da fare e tanto faremo. Un terzo dei beni confiscati in Italia si trovano in Sicilia un patrimonio spesso di difficile gestione per i piccoli comuni che necessitano di un supporto tecnico. Qua avrà un ruolo molto importante la regione che si è già dimostrata disponibile in questo senso sia quello di fornire un'attività di supporto dal punto di vista progettuale nei confronti dei comuni, soprattutto dei comuni più piccoli quelli in cui davvero si hanno difficoltà materiali proprio per un fatto di mancanza di personale e anche di qualificazione di quella piccola parte di personale che posseggono.